Esordio a Bologna contro la squadra di cui è dirigente l'ex Granata Marco Di Vaio, chiusura alla Rechi contro l'Udinese. Dal 22 agosto al 22 maggio saranno 38 giornate ad alto coefficiente di difficoltà per la Saritana che in quanto matricola dovrà provare a salvarsi sfatando il tabù rappresentato dalle sue due precedenti esperienze in massima serie, concluse sempre con la retrocessione. In attesa di capire con che squadra Castori potrà affrontare il campionato, al momento si conoscono solo i calendari di andata e ritorno della Saritana rappresentata ieri a Milano dal DS Fabiani. La prima gara interna vedrà José Mourinho, ospite con la sua Roma della Rechi. Dopo la prima sosta per lasciare spazio alle nazionali si riprenderà da Torino contro i Granata di Iuric. Atalanta e Verone saranno ospiti della Saritana in due gare ravvicinate e poi la trasferta sul campo del Sassuolo. Ottobre partirà con il match interno col Genoa e dopo la seconda sosta ecco la trasferta in casa dello Spezia. Avvio sulla carta non proibitivo che avrà il suo culmine nella sfida interna con l'Empoli e nella trasferta di Venezia. Poi a fine mese ecco il derby col Napoli in programma alla Rechi e la successiva visita all'Olimpico in casa della Lazio di Lotito. Altro stop e poi sfida con la Sampdoria alla Rechi e trasferta a Cagliari per chiudere novembre. Dicembre sarà l'insegna delle sfide con le grandi storiche. Si parte con la Juventus a Salerno, il Milan a San Siro e la Fiorentina al Franchi prima del match interno con i campioni d'Italia dell'Inter. Nel turno pre-natalizio l'ultima di andata al Friuli di Udine. Il laggione di ritorno si aprirà il 6 gennaio 2022 in casa col Venezia. Verona fuori, Lazio in casa e derby a Napoli il 23 del mese. Altra sosta, poi febbraio si aprirà con lo Spezia alla Rechi, Genoa a Marassi e doppio turno interno con Milano e Bologna prima del viaggio nella Tana dell'Inter. Sassuolo in casa e doppia sfida con le torinesi il 20 marzo in casa della Juventus. Il 3 aprile match interno col Toro. Roma e Samp fuori, Fiorentina in casa, primo maggio a Bergamo e poi rush finale con Cagliari in casa, Empoli fuori ed Udinesi alla Rechi. Queste le 38 partite che attendono la Sanitana nella stagione del ritorno in Serie A.